Ora, io so perfettamente che ci sono delle persone che vedo dall'inizio, sul Papa 96, che permetteranno, per la passione che hanno nei confronti della scuola, di raccontare che il problema della scuola, per come lo vediamo noi, è un pochino più grande. Io credo che in questi anni, fatemi parlare, credo che in questi anni noi abbiamo considerato la scuola semplicemente sulla base delle valutazioni di bilancio che venivano fatte. Se avanzavano dei soldi, cosa accadeva? Se avanzavano dei soldi, si davano alla scuola. Se mancavano dei soldi, si prendevano dalla scuola. La scuola come ultima ruota del canale. Però, non servono, credo che ci sono. Per dire una cosa molto semplice, per dire, lasciatemelo esprimere con grande forza, per dire che la crescita di un Paese tra dieci anni sarà misurata dalla qualità del lavoro delle donne e degli uomini della scuola oggi.